popolo del regno di kingdomgame.it oggi abbiamo un video speciale per voi infatti assisterete a una partita multi player con niente poco di meno che la 343 industries prima però di farvi gustare il gameplay vogliamo proporvi una chicca trovata o meglio spulciata dalla nostra esperienza al gamescom in questo video di circa 40 secondi vedrete all'opera major nelson mentre gioca ad alo quindi che dirvi ragazzi buona visione dal vostro oviv e stay king questo parte è un grande parte che è iniziato a lavorare e non ci sono stati più awesome o non ci sono stati più grandi non ci sono stati più grandiose ma non ci sono stati più grandiose ma non ci sono stati più grandiose Sì Paggia spidey Ha 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 ha, ha ha c'è so we activate the waterfalls can you still fire through them yep you can still fire through them it just provides line of sight protection gotcha as you can tell it's not easy to see through so if you have a sniper rifle or covenant carbine and you zoom in it's actually easier to see through through the zoom so it just makes a great sniper area as well as trying to protect yourself from long range in the street of a cardboard box anywhere while you can have that's true so 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 Grazie a tutti. 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 Nice. Nice. Yeah. Yeah, I sit right next to Bravo and I used to be on the Xbox Live platform team, so... This is a tournament happening today, right? Yeah, over in LA for Halo Fest. Right, right. Right, right. Yeah. 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 So is it safe to say that two anniversaries is gonna be the focus competitive multiplayer-wise until Halo 5? Yeah. 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 And then you'll be able to set up your own matches and play across all three or all four of the game engines. Yeah. 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 Ah, sorry. Distractive. What? An assist? That is wrong. My press record here. ProHack is doing a good job as well. Thank you. Great job.